Terra Amara, puntate turche, Yilmaz si allea a Yulide per far scarcerare l'ex fidanzata. Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane in tv. Le trame turche dello sceneggiato svelano che Yilmaz Akaya chiederà aiuto a Yulide per aiutare l'ex fidanzata Zuley ad uscire dal carcere. Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le nuove puntate in onda prossimamente in tv rivelano che Yulide e Yilmaz uniranno le forze per aiutare Zuley. Tutto inizierà quando la madre di Adnan si scaglierà contro Demir Reo di averla sbattuta fuori di casa poiché penserà che abbia intrecciato una relazione clandestina con l'ex fidanzato. Una convinzione che si innescherà quando il ricco imprenditore vedrà un video spedito da Muigan in cui i due ex innamorati appariranno abbastanza complici. Pertanto, Zuley accadrà in una profonda depressione visto che suo marito la considererà morta dopo averle giurato che non potrà più rivedere i figli. La donna a questo punto proverà a togliersi la vita. Fortunatamente il gesto inconsulto sarà fermato dall'intervento provvidenziale di Fekeli. Che offrirà all'alto un riparo nella sua tenuta. Un arrivo che desterà alla gelosia di Muigan. Che darà vita ad uno scontro accesissimo con lei. Al termine di esso, la madre di Adnan ruberà una pistola per dirigersi alla fattoria e sparare in pieno petto a Demir. Nelle puntate turche di Terra Amara, Demir verrà sottoposto ad un intervento medico d'urgenza dall'equip guidata da Sabat-in. I medici si riserveranno la prognosi visto la grave ferita mentre per Zuleyya scatterà immediatamente l'arresto per il tentato omicidio del consorte. Una posizione che potrebbe aggravarsi qualora il giovane Yaman esalasse l'ultimo respiro. Fortunatamente Altun troverà delle perse in grado di aiutarla a gestire questa delicata faccenda. Yulide prenderà le parti della detenuta oltre a Diilmaz. Il pubblico ministero colpita dalle vessazioni subite da Zuleyya prometterà di alleggerire i suoi capi di imputazione in sede processuale. Yulide farà credere agli inquirenti che Zuleyya abbia ferito suo marito per legittima difesa non rivelando tutti gli elementi che potrebbero incastrarla per aggressione. Un escamotage che però non piacerà a giudice, il quale si rifiuterà di scarcerare la madre di Leila finché non sarà chiarita tutta la faccenda. Nel frattempo, Yulmaz apparirà sempre più intenzionato a divorziare da Muegan. L'ex meccanico sceglierà di stare vicino all'ex fidanzata temendo che passi il resto della sua vita in carcere. Pertanto, l'uomo cercherà di studiare una linea difensiva con Yulide affinché la moglie di Demir possa ritornare dai suoi bambini. L'estate interesse con Yuline di riso. Grazie a tutti